Sì, oggi la Camera del Dente è aperta alla città, a tutti quelli che vorranno testimoniare la loro vicinanza, le famiglie, ai ragazzi che ci hanno lasciato e dare il loro senso di cordoglio, quindi il loro profondo cordoglio. Per quanto riguarda i funerali ricordiamo che ancora la data non è stata definita, quindi bisogna attendere ancora, bisogna avere ancora un pochino di pazienza. È difficile pensare a domani? Penso che per domani non sarà possibile.